Io in prima vedo come vedi tu, in terza vedo proprio tipo una scala di grigi, come il gioco è ben che nero Aspetto, azione Ah le alt, hai cliccato qualcosa nell'alt, riclicca alt Sì, te lo dico io perché adesso mi fa la stessa cosa a me adesso, mi sta facendo la stessa cosa che dici tu Ora alt, vedi? Adesso spingi alt e devi mangiare, mi so, aspetta fammi provare una cosa Dai, ho tolto l'alt e vedo anche lei Adesso anch'io, non so perché Non è qualcosa della grafica No, no, anche a me, fa lo stesso adesso, se metti in prima persona è normale, in terza persona è bianco e nero, adesso, uguale Ma prima no a te però Eh, non so che cazzo spingi, per colto abatto, vedrai che si bugga Devo togliere quel tasto dall'alte però, aspetta Dai porca puttana, io lo stesso tuo problema Ma fammi cambiare anche a me guarda, sto opzioni Che con quell'al tab non è buono Ah sì, controlli, se te lo fa cambiare Ah sì, controlli, se te lo fa cambiare anche a me guarda, sto non è buono col tab fai qualcosa no a parte quello lì della visuale della visione col tab cosa c'entra con l'altra col tab no no lo metto come inventario il tab anch'io l'ho messo come inventario invece l'altro va l'inventario dove cazzo è l'inventario inventario eccolo è la k non trovo la k per mettere in primo il terzo metto il tasso sotto e vedi col tab il pannello successivo no non puoi mettere inventario tab avanti la posso buttare la lascia default? non lo so la tengo oh c'è più inventario l'ho cambiato ora non c'è più inventario micione inventario inventario gli mettiamo questo ok no niente slogo e rilogo dai per quella cosa lì? si vedi se risolvi intanto vado al cesso arrivo ok grazie 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 a tutti. Grazie a tutti. Eccomi. Ho messo anche il logo, vediamo. Ok. E quindi anche a te ti usciva la grigia? Beh, che ha qualche bug il gioco ci sta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Quanti player ci sono? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Come ti vedi? Come ti vedi? L di Livorno. Ah, ha pure il livello? Ah, pure il livello. Ah, pure il livello! Ah, sì. Mi puoi anche chattare, credo. Ah, sì. Ah, sì. dove ci sparavano. Spingi un po' la F, almeno abbiamo un po' di più. 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 Non so se si passa di qua. Proviamo. Io sto cadendo. Vieni, vieni in giù. Dove sei? Vieni in giù Vale Un lupo Vieni, vieni, vieni qua Oddio Lol Dove stiamo andando, scusa Non lo so, non lo so Tu salta, fai come faccio io Dobbiamo girare quel cazzo di coso Perché c'è lui che ci spara No, però se mi viene addosso Non è intelligente Ok, un bunny hop di qua Mi piace No Ah, capisco Adesso ci vogliamo e moriamo Forse no Aiuto Oh, che bella sta oasi Si sta oasi è un cazzo C'è lui là che mena Spingi bene la F, andiamo in là Aspetta, aspetta Ma non puoi correre così in faccia a tutto ciò che non c'è Andiamo Non c'è Ecco, questo tipo si può distruggere Vedi, puoi interagire Vedi cosa ti dà Vabbè, ti dà poi lo stesso inventario che hai tu Sì, ti dà poi lo stesso inventario, non è che ti dà chissà cosa Struttura protetta Dove sei andata Dove sei andata? Vabbè Sono lungo la spiaggia io Vabbè Stavo mangiando Scusa Cos'è tirato? Buon prezzo Ah, l'ho preso C'è Sì, oddio Sì, oddio